Sant'Egidio alla Vibrata resterà in zona rossa per i prossimi dieci giorni. La crescita esponenziale in poco tempo dei contagi che ha portato ad un ricovero ospedaliero confina la popolosa cittadina dell'interno della vallata nel perimetro dentro cui verranno attuate diverse restrizioni a partire dalle attività commerciali ritenute non essenziali nei limiti di quanto stabilito dal DPCM. I contagi sembrerebbero essere partiti dagli assembramenti generati in occasione di cene. Non si sa se nei ristoranti o in case private. La maggioranza dei contagiati sono giovani. Stamattina ho ricevuto diecine di telefonate da parte soprattutto dei commercianti quelli che poi sono maggiormente colpiti per il fatto che c'era stata una piccola ripresa c'era speranza che si tornasse alla normalità ma ciò purtroppo non è stato. Si parla che poi l'ho pure accertato tramite ragazzini che sono stati comunque contagiati anche sono oggi positivi per colpo di qualche cena in più e insomma purtroppo è vero che bisognerebbe avere più controlli. Il problema pure è che le forze dell'ordine effetti che possono andare casa per casa a vedere quello che succede a casa. Su questi dieci giorni ce li siamo abbeccati fino al 20 di maggio e dobbiamo fare attenzione quindi torniamo al punto di prima che non si può uscire da casa che devi stare nelle vicinanze dell'abitazione. I negozi possono stare aperti ma quelli che erano consentiti in zona rossa, gli alimentari o quelli per vendita di prodotti per bambini. Poi ci si può muovere soltanto come tutti sanno la solita storia per malattia, per lavoro, per la scuola. Romandini esprime la sua rabbia sia per la poca attenzione mostrata da suoi concittadini che dai criteri determinati dalla cabina di regia sugli indici RT. Ma comunque è una cosa per Sant'Egidio un po' drammatica, siamo la pecora nera ma credo però che questo RT vada calcolato almeno a livello provinciale, non a livello di comune. Faccio per dire comuni che hanno 200 residenti, lì basta due o tre persone che si contagiano, in pratica va in zona rossa, ma che mi rappresenta un comune con 500 o 300 abitanti entrare in zona rossa circondato da tutti i comuni che stanno intorno che sono in zona gialla o addirittura in zona bianca.